Diversi ex consiglieri comunali di Agrigento sono stati invitati agli agenti della Digos a fornire una serie di chiarimenti sulla vicenda del piano regolatore generale della città, delle sue linee guida, delle prescrizioni esecutive e del piano costruttivo di Palmentelle e zona C4. Il tutto è in merito a un'attività partita all'inizio di quest'anno con il sequestro di diversi incartamenti, soprattutto concessioni di lizzie e sanatorie che sono ancora in mano alla magistratura e che di conseguenza hanno reso nullo l'iter di commissariamento da parte della regione per il completamento del piano dopo che il Comune aveva ottenuto l'ok da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Le domande degli inquirenti si sarebbero concentrate principalmente su alcune sedute di Consiglio nel corso delle quali gli ex consiglieri avrebbero voluto fatto cadere volutamente il numero legale o rinviato il punto evitando l'approvazione della linea guida al fine di scoprire le motivazioni di tali scelte. Di particolare interesse le dichiarazioni rilasciate da alcuni ex consiglieri secondo i quali esisterebbero poteri forti con interessi sul piano regolatore generale. Al momento non vi sarebbero comunque indagati ma le attività proseguono.